Sola sola? Sì? Piano piano? Uno, non sento, due, poi tre, poi quattro, brava, poi cinque, poi sei, sette, aspetta, arrivo, fermati là, ferma. Ehi, che ne fai? Che ne fai? Ergine, concella, con le mani, con le mani, con le mani, beviamo un po' di acqua? Come no, come no, con le manine, zozzi, zozzi, concella. La scena in cui c'è la nipotina di Barbara D'Urso piena di yogurt, sulle mani, oh mio Dio, cosa farei io, non lo so.